va bene iniziamo così stiamo stiamo nei tempi intanto grazie a tutti di essere qui benvenuti a pillole 4.0 casi pratici per PMI oggi con noi Daniele De Gregorio di Iken prima di passare la parola giusto un paio di cose ci tenevo a dire per circa il motivo per cui facciamo abbiamo deciso in alba di fare questo ciclo di incontri obiettivo principale è provare effettivamente a capire assieme alle start up che ospitiamo e assieme alle aziende con cui interagiamo quali sono le potenzialità dell'industria 4.0 poiché attraverso la digitalizzazione dell'industria e poi non è solo un tema di digitalizzazione ma principalmente questo attraverso questo tema passano molte delle nostre sfide quindi c'è il tema della competitività della nostra industria quindi diciamo la salvaguardia anche nel lungo termine un po della nostra comunità c'è un tema di sostenibilità ambientale che è molto connesso un tema di welfare e di miglioramento delle condizioni di lavoro eccetera eccetera inoltre il pensiero tipico è che l'industria 4.0 non sia in realtà una cosa da PMI ma in realtà le tecnologie sono sempre più mature sono sempre più accessibili gli incentivi ci sono e quindi non è vero appunto che l'industria 4.0 sia solo per le grandi aziende anzi diciamo che per assurdo in una transizione al digitale è molto più facile fare una transizione per una PMI piuttosto che per Ford o per un'azienda molto grande per una questione principalmente di tempo cioè per fare una transizione di un qualcosa di molto grande molto complesso ci vuole più tempo che farla in un qualcosa di più piccolo quindi forse qua sta l'unico punto di forza diciamo di uno dei pochi punti veramente di forza potenziali di un ecosistema fatto a prevalenza di PMI quindi possiamo essere veramente snelli e veloci se capiamo come calare l'industria 4.0 veramente su un ecosistema fatto di PMI quindi niente oggi vedremo una delle tante tecnologie che abilitano l'industria 4.0 l'industria 4.0 che diventa tale completa quando tutti i processi principali sono digitalizzati quando possiamo davvero farci supportare da tecnologie come ad esempio il machine learning per ottimizzare le nostre produzione in real time ad esempio una volta che tutte le informazioni sono integrate pardon e oggi tutto tutto questo diciamo è sempre più semplice davvero alla portata di tutto quindi do il benvenuto a Daniele De Gregorio che oggi ci parlerà delle potenzialità di Iken e poi come accennavo prima al termine del suo intervento se avremo tempo ci sarà un breve spazio per eventuali domande grazie Nick allora vi condivido delle slide ditemi se vedete tutto vediamo ok allora intanto questa presentazione è dedicata a un verticale specifico che è quello dell'ispezione visiva parto però prima con una piccola introduzione di Iken come da questi video noi ci occupiamo di tutt'altro in realtà cioè il nostro core business è la visione robotica perché qui abbiamo un diciamo un prodotto segreto di cui non vi parlerò per lasciarvi la curiosità però sostanzialmente quei video che vedete sulla destra cioè sistemi di riconoscimento oggetti e poi di presa robot completamente automatizzati noi li riusciamo a fare senza intervento umano quindi è lo stesso robot che si addestra da solo a riconoscere questi oggetti a prenderli a fare applicazioni tipo pick and place, beam peeping soprattutto di oggetti deformabili come la frutta perché sono quelli più difficili che senza l'AI fino ad oggi non si era riusciti a prendere in questa presentazione però vi parlerò di anomaly detection che in realtà è uno dei verticali più grandi collegati alla visione c'è quindi l'ispezione dei difetti basata su AI in particolare su una tecnica di AI non troppo conosciuta nell'ambito pratico comunque di cosa parliamo l'ispezione visiva sostanzialmente come vedete dall'immagine in destra se io ho un oggetto o l'immagine di un oggetto con la nocciola l'obiettivo dell'ispezione visiva è diciamo che a vari livelli il primo livello è identificare se questa immagine racchiude un campione buono o no in questo caso c'è il buco quindi sarebbe un no il secondo livello è localizzare il difetto quindi sapere dove è esattamente quel buco all'interno dell'immagine per poterlo anche andare a misurare in dimensioni o addirittura il terzo livello è classificare anche il difetto per dire guarda che è un buco, un taglio, una macchia e quant'altro questa è l'ispezione visiva diciamo che a grandi linee si occupa di questo ci sono ovviamente gli approcci classici quindi vi parlerò questa narrazione per farvi capire cos'è l'AI sostanzialmente come si applica soprattutto su questo verticale l'approccio classico quello che si faceva nel giurassico cioè fino a cinque anni fa in realtà questa è una battuta ma in realtà si fa ancora oggi circa il 90 per cento delle applicazioni di ispezione sono fatte così qui sulla destra vi volevo raffigurare quello che un tipico software di ispezione visiva contiene cioè centinaia di parametri quindi ho racchiuto solo una decina farvi capire il processo tramite i quali io riesco a a manipolare l'immagine identificare il difetto questa è l'immagine originale questi sono i parametri qua c'è un diciamo un esempio molto metaforico io modifico i parametri per esempio segmento l'oggetto rispetto allo sfondo e non ce la riesco a farlo con grande difficoltà poi modifico ancora i parametri identifico i contorni modifico ancora i parametri riesco a decidere delle aree precise e isolo il difetto che voglio trovare e lo battezzo come vedete un processo abbastanza difficoltoso io solo per riuscire a fare anche queste slide che simulano è stato molto complicato quindi la fine è lo scopo identificare dove si trova questo questo buco capite qual è il problema cioè il problema è che già farlo per un'immagine è molto difficile bisogna avere una competenza tale da capire cosa sono questi parametri quindi c'è un'expertise di visione industriale saperli manipolare ma soprattutto questa è un'immagine ma io devo fare per tutte le immagini o almeno per un sotto insieme abbastanza grande tale che questi parametri facciano tornare i conti per tutti capite che questo è uno di sé però c'è chi lo fa funziona per la maggior parte delle applicazioni un'applicazione tipo questa proprio food è impossibile farlo ve lo dico subito che mi rivelo questo segreto ma per molte altre applicazioni tipo nell'automotive pezzi meccanici si può fare si fa e lo si fa tutt'oggi però c'è una soluzione e c'è quella lei hai già qui interviene come prima soluzione e cioè l'approccio classico come abbiamo visto cosa fa io gli do in input i dati gli do le regole e lui mi dà la risposta cioè con le regole le analizza i dati e mi individua dove si trova il difetto lei ai inverte completamente questo paradigma io gli do i dati e la risposta è lui che mi trova le regole questo è quello che sostanzialmente fa lei ai e lo fa dagli anni 50 nel senso basandosi su già sulle risposte quindi sull'output atteso è lui che mi trova le regole complesse per risolvere questo tipo di tasca per andare più nel dettaglio cosa sono queste risposte io gli do questa serie di immagini delle nocciole e a destra gli do le risposte che sono le label chiamate in gioco tecnico cioè sono delle delle maschere che io faccio col mouse attorno ai difetti quindi io sto etichettando i miei dati identificando io uomo dove si trova il difetto magari colorandolo anche in base alle caratteristiche lei ai mi trova quei parametri che abbiamo visto prima molto complesse in realtà queste leiai degli anni 50 tra virgolette quella moderna che si chiama deep learning fa ancora di più prende sempre la stessa cosa in input ma in output mi genera una rete neurale capace di prendere in ingresso direttamente un'immagine e di darmi in uscita direttamente la maschera di dove si potrebbe trovare il difetto i parametri scompaiono proprio dal punto di vista utente non c'è più niente non c'è nemmeno più un'interfaccia grafica fa tutto da sola e si chiama deep learning perché è capace da un'immagine non solo di estrarre tutte le caratteristiche ma di generare anche direttamente la risposta finale questa è una rivoluzione perché una rivoluzione già questa perché prima per fare questa roba qui ci voleva un esperto capace di capire cosa sono questi parametri e di modificarli infatti lì come esempio c'è l'anturing per farvi capire il livello di complessità del problema con le iai oggi non è più vero questo io devo solo saper disegnare delle maschere colorate quindi ho usato quel simpatico vecchietto che su internet è preso come metafora dell'ingenuità cioè se io so usare il mouse so disegnare una maschera attorno a un buco riesco ad addestrare un sistema complessissimo che fino a ieri non riuscivo nemmeno nemmeno un programmatore esperto riusciva a mettere in piedi quindi capite questo punto di vista economico è una rivoluzione però adesso vi faccio vedere un altro problema con un caso reale che abbiamo risolto poco tempo fa per farvi intuire qual è il problema vero allora il caso specifico era questo è un costruttore di macchine per ispezione questo caso l'ispezione di boccette di medicinale questo caso specifico anche di vaccino questa sa perché va molto di modo ultimamente e il loro caso è quello di produrre queste macchine che se realizzano questi oggetti li portano davanti la telecamera la telecamera acquisisce immagini di ogni campione e deve decidere se questo campione è buono o no per esempio dal punto di vista estetico o cosmetico come lo chiamano loro cioè verificare se ci sono delle botte ammaccature non solo perché dal punto di vista estetico magari ci sono dei requirement che la produzione richiede ma anche perché magari botte esterne possono nascondere un contenuto corrotto quindi questo è il loro problema però il problema di un costruttore di macchine che fa questo tipo di lavoro qual è che io già ci sono diversi problemi prima di tutto che gli oggetti che possono trattare sono infiniti perché dipendono dal loro altro cliente quindi come vedete da sinistra le boccette possono essere di tantissimi formati tantissimi colori cambia il punto di vista perché magari la telecamera che non la posso mettere sempre nello stesso punto per esigenze meccaniche cambia la luce cambia tutto è molto complesso ma il problema principale della difettologia qual è è che il difetto non si sa a priori qual è quindi è impossibile caratterizzarlo senza averlo mai visto e non lo vedo finché non sono in produzione perché per esempio uno dei difetti classici che si sviti una vite la macchina meccanicamente comincia a produrre un difetto tipo un taglio sistematico sugli oggetti finché io non lo vedo non lo so quindi è un cane che si morde la coda non potendo avere difetti non posso nemmeno scrivere degli algoritmi che mi trovino questi effetti quindi è un problema diciamo fino ad oggi il risolto quindi proprio la reperibilità di questi difetti non solo rompe il metodo classico perché non posso scrivere algoritmo ma automaticamente rompe anche il primo metodo dell'ei perché io non posso produrre la quella che abbiamo chiamato prima risposta perché non ho proprio il dato per farlo una delle soluzioni più ingenue tra virgolette di congenue ma lo facciamo anche noi per fare dei prototipi prendere malter martello e scalpello e mettersi a fare dei difetti e questo ok va bene come prototipazione ma dal punto di vista statistico è una cosa orribile perché io produco un difetto che poi non sarà mai simile a quello vero quindi produco una distribuzione statistica completamente falsata quindi va bene fino a un certo punto il problema dei difetti rimane ed è qui che interviene questo nuovo tipo di ai che noi nella torre d'avorio dall'università da dove veniamo perché in realtà noi siamo uno spin off universitario quindi ci occupiamo di ricerca e abbiamo deciso poi di scendere in campo come disse qualcuno e dalla torre d'avorio pensavamo che fosse una tecnica nota a tutti perché si sa che i ricercatori hanno questa un po vivono tra le nuvole ci siamo accorti invece non la conosce nessuno e per questo abbiamo iniziato non solo a venderla come prodotto ma anche a raccontarla in ottica di evangelizzazione ed è lei non supervisionata che vuol dire il modello supervisionato è quello che abbiamo visto prima l'uomo supervisiona l'allenamento cioè sono io che produco le risposte associate ai dati e il modello trova i parametri nel modello non supervisionato che sembra una stregoneria ma io gli do solo i dati e lui produce le regole le risposte gliele do solo alla fine solo per validare che quello che a lui ha fatto è buono come vedete però le answeb le label non entrano mai nel modello quindi io uomo non devo fare assolutamente niente devo solo fare le foto la cosa particolare nascosta in tutto questo è che devo fare solo le foto dei campioni senza difetto cioè io posso fargli vedere solo campioni che non hanno buchi non hanno tagli la rete impara poi a trovare l'eventuale difetto questo è chiamato anomaly detection proprio perché io trovo l'anomalia senza mai vederlo sembra una magia ma in realtà non lo è dal punto di vista statistico ha delle fondamenta molto solide e ci sono tantissime varianti di questo tipo di approccio io qui viene racconto una boccetta simile al caso d'uso reale che abbiamo risolto delle boccette non troppo simile perché è un po segreto però per farvi intuire cosa vuol dire esempio questo è il metodo più classico di fare questa cosa qui cioè quella a sinistra è una foto vera della boccetta quella a destra invece una ricostruzione sintetica che la rete neurale ha fatto di quella boccetta se voi vedete con attenzione sembra la boccetta vera ma non lo è è la sua ricostruzione la sua idea sintetica di quello che vede e voi direte ma a che serve questa questa cosa beh la rete è un modello generativo che impara a generare le sue rappresentazioni dell'immagine di input e se tu gli fai vedere solo immagini buone lui impara a ricostruire solo gli oggetti buoni quindi quando comparirà un oggetto non buono la rete non sarà in grado di ricostruirlo ma ricostruirà l'oggetto più simile di quello che ha visto come vedete con la destra che sono immagini reali prese dalla rete quello a destra sembra l'oggetto di sinistra ma come del difetto è sparito per questo che noi la chiamiamo simpaticamente tra di noi il repair con la e ai nel nome perché effettivamente ha fatto sparire il difetto e questo lo fa senza aver fatto noi non abbiamo detto niente abbiamo solo fatto vedere campioni buoni e questo è abbastanza una stregoneria per noi per non addetti ai lavori invece per gli scienziati è una cosa abbastanza nota da almeno cinque anni e non è facile farlo però funziona e come si fa poi semplicemente comparando le due immagini si può vedere che c'è una zona completamente diversa che è proprio quella del difetto sembra una cosa semplice ripeto non lo è e funziona qui ci sono degli output reali proprio di questo sistema che abbiamo venduto nella prima colonna c'è l'immagine che la rete vede nella seconda colonna c'è l'immagine che la rete ricostruisce a memoria e come vedete in tutte le immagini della seconda colonna sparisce il difetto che c'è sulla sinistra nella terza e nella quarta per differenza viene evidenziato questo difetto è chiaro che non è un approccio perfetto anzi come vedete nell'immagine in alto a destra trova sì il buchetto sul tappo giallo che è molto difficile da rilevare senza ai però vede anche delle bollicine nel contenuto sotto in basso che sono una roba che lui non ha mai visto in base di addestramento non l'ha imparata a ricostruire quindi quando vede quella bolla fa qualcosa che non dovrebbe fare e quindi l'identifica come difetto quindi non è precisissimo ed è per questo che ci sono almeno un altro centinaio di tecniche simili che adesso non posso raccontare però che risolvono anche questo tipo di problemi però questa solo per farvi intuire come si può trovare il difetto senza vederlo mai i numeri sono questi sostanzialmente loro avevano un sistema classico come il primo che abbiamo visto che faceva il 70 per cento 70 cosa vuol dire 70 per cento di accuratezza cioè 50 per cento sarebbe come lanciare una monetina cioè io faccio la foto dei prodotti lancio la monetina testa lo scarto croce lo tengo capite che quindi il 50 per cento di accuratezza equivale a lanciare la monetina non serve a niente 70 è leggermente più alto ma è un altissimo livello di fallimento 97 invece che abbiamo raggiunto con questo sistema è abbastanza buono vuol dire che il 3 per cento dei campioni in questo caso un numero che aggrega un po tutto vuol dire che il 3 per cento dei campioni c'è un'indecisione stra buono e cattivo si può comunque sempre regolare il sistema in modo tale che scarti di più o scarti di meno a secondo le esigenze di produzione è chiaro che adesso noi faremo il follow up che punterà al 99 però 97 già abbastanza una rivoluzione al netto di questo però il configuration time è la cosa importante i sistemi classici per essere configurati e riconfigurati hanno bisogno di moltissime ore io ho messo 60 perché diciamo che il tempo medio di un intervento di assistenza per riconfigurare per esempio un cambio formato per questo noi ci rivolgiamo all'inizio più ai costruttori di macchine ci siamo rivolte anno scorso più costruttori di macchine perché sono quelli che fanno più cambi formati in realtà con questi sistemi invece il tempo uomo diventa zero perché la macchina si riaddestra da sola basta solo mettere in macchina i campioni buoni quello è l'unico lavoro che bisogna fare quindi selezionare i campioni metterne solo buone far sì che la macchina li registri e la rete si si addestra da sola quindi l'intervento umano è zero perché ci sono zero parametri questa è la vera rivoluzione e in più la velocità paradossalmente si pensa che questi sistemi di ai siano lenti ma non so per quale motivo ma in realtà gli approcci classici sono essendo algoritmi gli algoritmi sono pieni di if else se faccio questo succede questo e bla 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 che sono le cose più lente che il computer possa fare invece lei ai è semplicemente un modello matematico il modello matematico si può tradurre in numeri semplici in operazioni matematiche semplici e quindi molto più veloce e 200 fps è solo un numero per farvi capire l'altro giorno abbiamo fatto un esperimento di una rete che va 1400 fps quindi capite che adesso anche i tempi ciclo la visione non inficia più i tempi ciclo ovviamente qui si nasconde anche il risparmio più non ho messo dei numeri perché non li potevo mettere però capite che si può calcolare in proporzione al tempo uomo se non c'è l'uomo nel loop soprattutto nella riconfigurazione della manutenzione adattiva e perfettiva di questi sistemi l'ottanta 90 per cento del costo software di questi sistemi diventa zero quindi capite risparmio poi se considera anche il costo orario delle assistenze per fare questo tipo di configurazioni vedete che 61 e l'assistenza e credetemi nei sistemi di visione sono tantissime perché i sistemi di visione classici come avete visto sono delicatissimi io configuro i parametri ma se cambia qualsiasi cosa l'oggetto soprattutto ma anche se cambia la luce da una finestra entra una luce diversa mai vista cambia tutto devo riconfigurarlo questo con le iai non è più vero con le iai questa non supervisionate ancora meno vero perché fa tutto da solo praticamente come abbiamo fatto cosa facciamo cosa vendiamo sostanzialmente ci siamo rifatti molto al mondo delle app per farvi capire la metafora cioè se voi pensate qualche anno fa lo smartphone e whatsapp whatsapp però un app per comunicare e su tutti gli smartphone e non c'è una altra alternativa oggi in realtà ce ne sono centinaia non è che io per installare telegram devo cambiare lo smartphone quindi con la stessa metafora noi abbiamo fatto sviluppato un framework abbiamo chiamato ai box dove le reti neurali effettivamente sono solo come delle app perché effettivamente essendo dei modelli matematici sono intercambiabili fra di loro quindi non serve ogni volta come nel software originale fare upgrade particolari cambiare l'algoritmo la rete neurale può essere messa plug and play quindi abbiamo sviluppato questo framework la rete neurale che poi il frutto della ricerca viene da fuori viene confezionata e messa dentro e può essere fatto mensilmente infatti per farvi un esempio in quel caso di prima delle boccette da quando abbiamo iniziato il progetto ad oggi sono cambiate 60 reti neurali perché la scienza è andata avanti purtroppo le dinamiche delle iai oggi a livello scientifico sono altissime 50 100 articoli a settimana quindi capite che stargli dietro è difficilissimo e battezzare un software che oggi viene scritto tra sei mesi va in collaudo e poi va sulla linea è già diventato vecchio di buttare immediatamente quindi abbiamo trovato questa formula dove anche noi venendo al mondo della ricerca avendo contatti con l'università riusciamo scientificamente a fare leak dall'università e prendere tutte queste reti neurali nuove che vengono le confezioniamo le mettiamo dentro a costo zero lo facciamo da remoto ovviamente e soprattutto abbiamo battezzato un'altra tecnica particolare del mobile della metafora delle app è che il protocollo abbiamo sviluppato questo protocollo che si interfaccia direttamente con tutti i linguaggi industriali maggiori la maggioranza sono c++ ma si interfaccia con tutti ma più che altro si interfaccia con una riga di codice qualsiasi sistema industriale ci sia adesso abbiamo 3 4 queste versioni basta una riga di codice c'è una riga di codice nel codice legacy del sistema che c'è già che dice rete neurale questa è l'immagine da me la risposta la rete ti risponde buono cattivo nel caso più semplice e lì si prende la decisione se scartare non scartare l'oggetto quindi l'impatto è veramente zero qual è il nostro modello sostanzialmente visto che una cosa molto semplice è molto automatizzata noi partiamo da una prova completamente gratuita se voi mandate due cartelle di immagini una con i campioni buoni una con i campioni cattivi noi la diamo direttamente in pastola box e ci dà già una risposta sui cattivi cioè ci dice se quei cattivi che voi avete etichettato come cattivi sono veramente cattivi senza fare nulla quindi usando una di quelle 60 reti che abbia accettato prima il secondo livello ovviamente è la rendi cioè nel caso specifico ovviamente si può ottimizzare quindi in base al caso d'uso in base alle luci in base a qualcosa c'è anche un'altra scienza dietro che noi possiamo sfruttare per ottimizzare il task e quindi sviluppiamo una due reti neurali ad hoc e poi per arrivare alla produzione con un discorso di licenza software è chiaro che questo è il modello fatto per diciamo grandi aziende medio grandi aziende che magari hanno già l'hardware e tutto c'è anche uno step zero in realtà che è proprio lo studio di fattibilità se uno non ha nemmeno le telecamere noi siamo parte di un'altra startup che si occupa anche di questa prima fase quindi c'è proprio il design della della soluzione quindi dove metto la telecamera come collezionano gli oggetti quindi la prima parte viene fatta in partnership con un'altra startup per poi comunque arrivare sempre a questa trafile e niente mi taccio spero di essere stato breve e conciso qui sono i nostri riferimenti c'è la nostra pagina linkedin aggiungeteci perché lì c'è molto materiale da ispezionare simpatico sono video non ci sono formule grazie grazie mille daniele c'è una domanda di bertini di pulsare energy engineering e quanti immagini buoni avete utilizzato per apprendimento nell'applicazione descritta allora lì sono dell'ordine delle migliaia dipende dalla tecnica in quella tecnica che vi ho fatto vedere prima o almeno in quella quella metafora della ricostruzione dell'immagine sintetica diciamo dalle 300 alle 1000 e ci sono altre tecniche che ne richiedono un po di meno siamo arrivati fino ad averne 50 ma dipende dal caso d'uso nel caso della nocciola per esempio che un caso molto difficile perché la nocciola può capitare in variate forme variate posizioni ce ne vogliono circa 400 solo buono però senza difetti impara anche mentre lavora seconda domanda questo è un tema delicato nel senso ovviamente sì però forse lì ci vuole un fil si può far imparare da soli però ci si deve fidare nel senso se siamo sicuri che faccio il 97 per cento è chiaro che più immagini poi collezione in produzione più può usarle per reimparare però se lì capitano dei difetti e nessuno sta supervisionando è difficile capire però lì ci sono altri discorsi che qui non ho messo porti a quello continuous learning in cui c'è ogni tanto quando succede qualcosa tipo arriva un difetto per cui la rete è molto indeciso questo difetto viene mandato tramite cloud al calo per attore che decide questa è una tecnica che noi abbiamo preso in prestito se non rubato alla tesla che fa la stessa cosa cioè la tesla quando succede un incidente le gli ultimi 20 minuti di registrazione della telecamera vengono mandati a un team di operatori che analizza ed etichetta quello che è successo nel video perché per riaddestrare la rete a non far succedere più l'incidente la filosofia è la stessa ecco questo fra l'altro daniele che dici fa venire in mente molte discussioni dove dove si parla comunque del fatto che io in azienda già delle persone magari che fanno ispezione magari non so nell'automotive dove alcune cose si guardano e si devono guardare proprio occhio nudo e in realtà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ti supporta e ti aiuta a far concentrare magari le persone non a guardare dalla mattina alla sera tutte le portiere che passano per fare un esempio ma concentrarsi su quell'uno per cento di casi che ancora ha bisogno di essere veramente migliorato e fare in modo appunto che non che non succedano più no no è corretto è corretto anche perché faccio un esempio di un altro caso che abbiamo risolto un paio di anni fa sulle sulle vongole l'ispezione delle vongole lì effettivamente quello è un lavoro aberrante perché tu devi avere devi ispezionarne milioni che ti passano sotto gli occhi ed è molto difficile quindi se c'è un sistema che invece te ne fa passare solo che ne so due ogni mezz'ora di quelle di cui non è proprio sicuro lì l'operatore deve fare un lavoro importantissimo perché lì decide poi le sorti del sistema però meno aberrante sicuramente quindi sì come dici tu è giustissimo anche perché mettere una persona dieci ore a guardare le stesse cose a parte che no 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 è un po' disumano ti stanchi cioè è veramente come guardare la catena di produzione di Taylor cent'anni fa e allo stesso tempo poi non puoi stare concentrato per più di 8 ore a guardare no no le performance è stato dimostrato che calano drasticamente all'aumentare delle ore quindi diciamo che oggi non ha più senso farlo così e un'altra domanda invece di Daniele Biffi ciao Daniele chiede quanto quanto sa gestire le misure con precisione e con che precisione ho capito bene la domanda le misure vengono diciamo che sono un'altra fase cioè la misurazione in ambito di visione viene fatta con i pixel e quindi la camera deve essere calibrata nello spazio per far corrispondere pixel a millimetri sostanzialmente una volta che la camera è calibrata calibrata vuol dire mettergli una scacchiera davanti e fare una misurazione pixel metro sostanzialmente poi la rete ti dà in output una maschera di pixel che tu vuoi trasformare in un'area in millimetri quindi la rete è molto precisa e ovviamente dipende dalla risoluzione dipende da tante cose per la misurazione in realtà io mi affiderei ancora tecniche classiche aiutate dalle AI cioè l'AI tira fuori la maschera la misurazione viene fatta con tecniche classiche ci sono delle reti oggi che fanno direttamente la misurazione ma non ci credo molto cioè dove c'è la matematica non bisogna sostituirla con l'AI quindi finché la matematica funziona io mi affiderei a quello domanda sempre di Bertini funziona anche con videocamere lineari? sì, noi abbiamo fatto diverse prove con le camere lineari soprattutto sui tessuti cioè quindi dove l'oggetto in realtà non è qualcosa di fisico ma è una scansione di una porzione di oggetto quindi l'input alla fine è sempre un'immagine che sia collezionata con una camera normale o con una lineare non cambia niente cambia la prospettiva dell'oggetto che ottieni ma in questo tipo di applicazioni non conta molto invece Daniele ti faccio una domanda io con videocamere infrarossi avete mai fatto dei progetti? sì, qui ci sono molte cose segrete tra virgolette non posso tanto dire però una delle cose più interessanti è quella del NIR e del multispettro cioè la stessa tecnica noi la stiamo provando in realtà faremo una pubblicazione forse a breve quindi si saprà di usare più spettri quindi l'RGB, gli spettri particolari, l'infrarosso e anche la mappa di profondità quindi diciamo che queste tecniche sono agnostiche rispetto ai canali dell'immagine quindi questo vuol dire che gli puoi dare delle immagini a colori, bianco e nero oppure infrarossi, oppure un mix di tutte queste e impara molto di più perché impara dalle caratteristiche che sono nel visibile e che sono nel non visibile quindi sì, anche camere termiche per dire ottimo, va bene, grazie mille non so se ci sono altre domande se no vi invitiamo intanto a, se ci sono altre domande, a scriverci sia, insomma, se ci sono domande per AlmaCube sia che ovviamente per iCan noi continuiamo ad aggiornarvi ovviamente sui prossimi incontri quindi troverete fra l'altro all'interno delle mail, avete già trovato un questionario se volete iniziare un percorso di autovalutazione sul tema 4.0 per poi andare eventualmente a fare un approfondimento questa è un'iniziativa che stiamo facendo con Birex e con Findustria Emilia e basta, vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo incontro grazie mille a tutti ciao, grazie grazie